Sto morendo di fame Mi mangerei anche il tavolo della cucina Sto ripassando la lezione di stamattina a scuola Che? Comunque tu non stai bene negli ultimi giorni, eh? Sto facendo pratica con i fondi di investimento Con il minestrone Vedi che cominci a capire? No, veramente no! Allora, per fare il minestrone devi mettere assieme tanti ingredienti Più ingredienti metti, più il minestrone è saporito e nutriente Se invece metti un solo ingrediente, ad esempio le patate, non fai il minestrone Fai pure Esatto, che è buono ma che non ha le stesse proprietà del minestrone E che cosa c'entra tutto questo con l'economia? C'entra perché ci insegna a diversificare Se noi abbiamo dei soldi da investire, non li investiamo tutti in un solo prodotto finanziario Anche se sembra ottimo Facciamo un bel minestrone, insomma Non credo di aver capito proprio bene Allora, se la mamma va a fare la spesa E compra solo le patate E poi scopre che sono marce Noi rimaniamo senza cena Se invece, oltre che le patate, prende i legumi, le carote e le zucchine Anche se le patate non ci sono, il minestrone riesce comunque Capisci ora? Giulie, Lulù, sono tornata, sono andata a fare la spesa Mamma, siamo in cucina Ecco, brave Ho comprato due chili di patate, erano in offerta Aiutatemi a pelarle che stasera facciamo il purè No, vi prego